Dopo nove anni ancora un rinvio del processo l'ex deputato dell'Udc ed ex sindaco di Carovigno, Mimmo Mele, processo per presunta cessione di cocaina, mentre si fa sempre più plausibile l'ipotesi della prescrizione. I fatti risalgono a luglio del 2007 quando l'allora deputato finì nell'occhio del ciclone a causa di uno scandalo a luci rosse che si sarebbe consumato all'interno del lussuoso Hotel Flora di Roma. La difesa di Miele punta alla soluzione, ma essendo quello contestato un fatto che dovrebbe rientrare nell'ipotesi più lieve di spaccio, il reato potrebbe essere già istinto. Nulla di fatto dunque, tutto rimandato a maggio prossimo, un dibattimento interminabile per una vicenda che ha condizionato non poco la vita privata e politica dell'ex onorevole Udcino. Tornando a quella sera di luglio 2007, una donna, Francesca Zenobi, accusò un malore e affermò di essersi sentita male dopo aver trascorso la notte con il parlamentare e aver fatto uso di droga. Mele, pur avendo ammesso di essere lui l'uomo in quella camera dell'Hotel Flora, ha sempre negato di aver ceduto sostanza stupefacente alla donna. Anzi, nel 2014, la Zenobi finì sotto processo e condannata a un anno e otto mesi di reclusione per tentata istorsione ai danni dell'ex sindaco di Carovigno. La donna avrebbe chiesto 100.000 euro a Mele in cambio di una modifica alla versione dei fatti sulla notte trascorsa nell'ussuoso albergo romano. Mele, che intanto è tornato a fare l'imprenditore, resta in attesa di un verdetto dopo quasi dieci anni. Un verdetto che sembra arrivare davvero tardi rispetto al clamore che la vicenda suscitò. L'imprenditore carovignese, in realtà, il suo riscatto lo ha parzialmente ottenuto con elezioni a sindaco nel 2013 nella sua città. Un'avventura terminata troppo presto, ma per ben altri motivi. Certo, dovesse arrivare la soluzione, nulla potrà cancellare le conseguenze provocate da quella notte all'Hotel Flora. Qualora però a maggio prossimo non dovesse esservi una motivata sentenza di assoluzione nel merito, ci sarà molto probabilmente la prescrizione a porre fine a questa quasi decennale vicenda.